Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Manosporizzata 7 Siamo qui per parlare del gruppo centrale di un tiriamo le somme più che altro del 2021 Per quanto riguarda il 2022 parlerò solamente dopo l'uscita della presentazione di quel auto Delle dichiarazioni perché credo che parlarne ora sia abbastanza inutile Così come fare previsioni sul mondo del 2022 come hanno fatto in tanti Ma non perché non la voglio fare ragazzi Perché più che una prediction sarebbero le sparate Diciamo così un video intitolato delle sparate starebbe meglio Piuttosto che un video intitolato prediction 2022 Certo magari alcuni lo dicono nel video stesso Poi gli altri sono liberi di fare quello che vi pare Io vi spiego il perché io preferisco non fare video per ora sulla prediction Perché senza i test senza delle dichiarazioni Insomma vedo troppa fuga forse su Ferrari Troppa fuga sul fatto che Mercedes e Red Bull abbiano failato il crash test Cioè ragazzi un po' troppo Un po' troppo di troppo ecco ragazzi Se ne parla veramente tanto Ma se ne parla su dettagli Perché secondo me non ha senso parlare di crash test falliti Non è che la Ferrari va bene solo perché gli iniziati Anzi se fallisci il crash test Vuol dire che la macchina ce l'hai al limite E quindi se lo fallisci vuol dire che magari devi correggere solo di poco Non so se mi spiego ragazzi Quindi io in questo momento aspetterei a trarre conclusioni Per il momento faccio solo un tiriamo le somme E di cose ci possiamo aspettare Per lo meno da fonti un po' più diciamo sicure per il 2022 Più sicure nel senso in termini di power unit ragazzi Perché quella non cambia Il resto comunque cambia praticamente tutta la parte aerodinamica Incomincio col parlare dell'Aston Martin Perché in questo video andremo a parlare di Aston Martin Alfa Tauri Alpine Aston Martin che è quella che mi intriga a più parlarne Nel senso È sicuramente una scuderia che ha fatto male Perché passare dal terzo al settimo vostro costruttore non è male Poi voi direte Sì vabbè 2020 ha fatto quarto non terzo Sì ragazzi ma se non contate Quei 15 punti che gli hanno tolto per il fatto della Mercedes Che poi alla fine hanno avuto quell'auto più o meno tutta la stagione Cioè io vedo che come la Racing Point andava nelle prime gare È andata anche nelle ultime Quindi sinceramente non so sta cosa di togliergli 15 punti o meno Perché l'auto secondo me è cambiata sostanzialmente poco Anzi Perez gli unici due podi che ha fatto Li ha fatti proprio con la macchina tra virgolette peggiore Quella non copiata Mercedes Non voglio addentrarmi in quel di dietro alle quinte ragazzi Ecco Detto questo La Stone Martin 6 è Per contribuire da Stroll Stroll ha fatto quest'anno 9 piazzamenti a punti Di cui 6 nella prima parte di stagione Mentre Vettel ne ha fatti 3-3 Con la differenza che i primi 3 sono stati quelli molto Diciamo sostanzialmente più importanti Anche perché nella prima parte di stagione La Stone Martin era in piena lotta per il quinto posto Costruttori Era solamente a meno 5-6 Una cosa simile E ha finito con l'arrivare praticamente a meno 80 Una cosa secondo me inammissibile Se mettiamo il doppio dei punti che ha ottenuto la Stone Martin Non fanno neanche quelli dell'Alpine Quindi una seconda parte di stagione è disastrosa Perché possiamo parlare quanto vogliamo Di un'auto che ha resentito molto Di questa cosa della Mercedes Perché abbiamo visto anche con Ferrari L'accordo del 2019 Che c'è stato segreto con la FIA E poi nel 2020 fanno una macchina di merda Quindi io non so se è tutto giusto o meno Però ragazzi Pinotto Non credo sia così incapace Da prendere la macchina nel 2019 Portare lo stesso telaio aerodinamico sostanzialmente Ma dal punto di vista del motore Una drastica diminuzione in velocità Quindi sei riuscito a peggiorare sia una cosa che un'altra Quindi un ingegnere Non penso che arrivi fino a questo punto È vero che magari in Ferrari abbiamo le scimmie a fare le strategie Ma ripeto ragazzi Non credo minimamente fino a questo punto Poi non so Ognuno può credere Quello Quello che vuole E quindi secondo me nel 2021 La merda della Raston Martin Sicuramente nella giornata di stagione Ha pagato questo Però comunque era a livello di Alpini Alfa Tauri Non a livelli di McLaren e Ferrari Che correvano uno sport a parte Nel gruppo centrale Però comunque Erano più o meno A quei livelli lì A volte se la giocavano anche Poi soprattutto con Monaco E Azerbaigian Vetta l'ha fatto vedere Dei bei sorpassi Quindi la Raston Martin Era veramente un'autoperformante Poi nella seconda parte di stagione Non sono stati portati sviluppi Ma questo si collega in ottica 2022 Quindi perché diciamo che nel 2022 L'Alpine è quella che andrà meglio E si parla tanto di Alpine Forse perché E' tra virgolette Autogestita Perché l'Alpine non deve prendere ordine da nessuno Il motore ha quello Renault Cioè quello prodotto in casa Perché alla fine l'Alpine è la Renault E quindi sicuramente Non so Poi c'è un dato Che secondo me fa molto riflettere Per l'Alpine del 2022 Che ne parlerò dopo Però ragazzi In questo 2022 Perché non si è parlato di Raston Martin Che nella seconda parte di stagione del 2021 Non ha portato sviluppi Facendo fare figure di merda I propri piloti Perché i migliori piazzamenti Della seconda parte di stagione Sono il settimo posto Li vettano in Messico E il sesto posto Li stroli in Qatar Entrambe gare un po' pazza Dove si sono ritirati quasi Diciamo un po' tutti Per quel che riguarda l'Alfa Tauri L'Alfa Tauri ha usufruito al massimo Del motore Honda Soprattutto in qualifica Facevano veramente delle prestazioni monster Specie con Su Noda Che in qualifica non ha sfigurato In gara purtroppo per lui sì Basta pensare che ragazzi Quest'auto era perfetta Per la serie di guida di Gasly Il motore Honda andava forte Gasly è un pilota Che deve andare forte Perché è veloce Gasly Un po' come Bottas È forte in qualifica Ma poi nei sorpassi Diciamo che si perde Si perde abbastanza ragazzi Gasly Quindi Gasly partiva davanti Come ha fatto magari in Brasile Se non mi sbaglio Che Gasly ha fatto quarto No, scusate Era in Messico In Messico e in Olanda Che partiva quarto Non viene attaccato per nessun giro Dalle Glerk, Sainz O le McLaren Che gli stavano dietro Alla fine finisce per arrivare quarto Quindi tutto questo insieme Ha favorito Gasly A fare una stagione straordinaria Facendo quindi 115 punti Arrivando solamente a meno 5 Da Daniel Ricciardo Che guidava la McLaren E che ha vinto una gara Malissimo Zunoda invece Perché è vero Che magari l'auto Non poteva combaciare Con il suo stile di guida Il capitano di quella scuderia E Gasly Però ragazzi In Zunoda c'è da dire Che le uniche gare Divendate a punti Sono le gare Praticamente Un po' più passerelle Se così Le possiamo definire Perché Ragazzi Se andiamo a vedere Per esempio Nella prima gara Dove Zunoda è arrivato a nono È arrivato comunque Davanti all'Alfa Romeo Auto comunque Teoricamente Molto meno performanti Di un Alfa Tauri Di quest'anno Ha fatto settimo In Azerbaijan Dove si è ritirato Verstappen Ha failato Hamilton Ha failato Bottas Quindi insomma Non È arrivato settimo Comunque in una gara Diciamo un po' pazzerella Dove comunque Quelli che andavano Meglio di lui Se la sono filata Diciamo così Tra virgolette Perché tre vetture Su quattro Delle più forti Ovvero Verstappen Hamilton E Bottas Erano dietro di lui Per degli errori Oppure per le sfortune Quindi penso che L'Alfa Tauri Con Zunoda È stato un flop Sicuramente Poi ripeto L'altra gara Dove arrivato a punti Zunoda È il sesto posto In Ungheria L'altra gara Sicuramente matta L'altra gara Dove arrivato a punti È il nono posto Negli Stati Uniti Dove è arrivato Anche lì Davanti l'Alfa Romeo Quindi sicuramente Non proprio Una buona parte Di stagione Con Zunoda Che quando si deve Confrontare Con Alpine Con Alpine E Aston Martin È quasi sempre Arrivato dietro Soprattutto nel confronto Con Alpine Quindi malissimo Zunoda Che è sempre dato Soprattutto l'ultima gara Dove ha colto Veramente un quarto posto Straordinario Ha fatto un bel Soprasso Su Bottas Ma è stata l'unica gara Secondo me Ai livelli Comunque Di quelli che devono Essere gli standard Della Alfa Tauri Che per colpa Di Zunoda Secondo me È arrivata Dietro l'Alpine Nella classifica Costruttori Alla fine Zunoda ha fatto 80 punti meno Di gas lì Che sono tanti Consistenza invece Per quanto riguarda L'Alpine Che è arrivata Quinto nel campionato Costruttori Battendo proprio L'Alfa Tauri Ma l'ha battuta Con la consistenza Perché ragazzi Alonso e Ocon Hanno fatto una Grandissima stagione Tutti e due Soprattutto Alonso Che tornava Dopo due anni Di stop in Formula 1 Ha fatto una straordinaria Stagione Ha portato a casa 81 punti Ma con tutto Che ha portato a casa 81 punti Ne ha portati 30 e meno di gas lì Che tecnicamente Dovrebbe guidare un'auto Più o meno A livello Dell'Alpine Poi Penso che siano Opinioni personali Secondo me Quest'anno L'Alfa Tauri Era leggermente Superiore all'Alpine E le condizioni Erano perfette Per lo stile di guida Di gas lì Più che per lo stile di guida Per quanto riguarda l'auto Per quanto riguarda Il suo problema Dei sorpassi Quindi essendo che lui Partiva spesso davanti Grazie a delle qualifiche Sicuramente straordinarie Magari si ritrovava dietro E non riusciva a rimontare Come magari è successo Nel Gran Premio Di Arabia Saudita Dove si aspettava Veramente tanto Da gas lì In Qatar Non in Arabia Saudita Scusate E poi Ha fatto altre Grandi prestazioni Come il settimo posto In Brasile Il quarto in Messico Il sesto nell'Arabia Saudita Quinto nell'ultimo Gran Premio In Abu Dhabi Quindi sicuramente Una grandissima stagione Però ragazzi C'è da dire che Alonso è arrivato A 30 punti Del Rogan's lì Questo è andato Veramente importante E Ocon Ha battuto 11 volte In 22 gare Fernando Alonso Ocon solamente Per 5 volte Non è andato a punti Accetto i ritiri Stessa cosa Fernando Alonso Quindi secondo me Bisogna leggermente Forse leggermente Sotto per tutto Ocon Hanno fatto sicuramente Entrambi Una grande stagione Quindi non aveva senso Mettere Piastri Però Biastri è stato un pilota Che ha vinto GP3 Formula 2 Consecutivamente Quindi un tentativo Andava fatto E il fatto è che Non abbiano messo Piastri Per confermare Alonso e Ocon Che andavano confermati Perché ripeto Hanno fatto una grandissima stagione E sono arrivati i quinti Grazie alla consistenza Al fatto di avere due piloti Perché la differenza Tra Ocon e Alonso Nella classifica costruttoria È di 7 punti Mentre la differenza Perché Ocon Ha battuto 11 volte Alonso Alonso ha battuto 11 volte Ocon Si sono equilibrati Poi forse Alonso Ha ottenuto dei risultati Leggermente migliori Rispetto a quelli che erano Gli standard Ma comunque Sono solo 7 punti Di differenza tra i due Mentre la differenza Punti tra Gasly e Tsunoda È ragazzi Di 80 punti Ed è un dato Veramente importantissimo Questo 80 punti Sono davvero Davvero tanti Quindi una cosa Davvero incredibile Questa qua Secondo me Dal mio punto di vista Per un team Di centro classifica Passare 70 punti È veramente Una cosa Molto Molto forte Che dà l'occhio È il fatto Che non abbiano messo Piastri Per favorire Alonso Ocon Alonso Ocon Hanno fatto una Grande stagione Ok Però Piastri Veniva da due Formule vinte consecutive Tecnicamente Con il cambio Di regolamento Ci poteva stare L'inserimento Di un nuovo pilota Allora Perché hanno deciso Di rimanere Alonso Ocon Non è che per caso Loro credono Che non è detto Sia così Non è che per caso Loro credono Di avere un'auto Molto performante Non lo so Ragazzi Non lascio decidere a voi Però forse Il fatto che loro Se poi tutti dicono Crediamo di avere un'auto performante Ti trovi nella merda Perché come hai fatto Una grandissima macchina Tu l'hanno fatta agli altri Un po' come la Brown GP Nel 2009 La grande auto La fai tu Ma ti copiano Anche gli altri È un conto Se poi tu fai schifo Tu già parti Ah quest'anno ho fatto schifo Però finiscono Per far schifo Anche gli altri La cosa si ridimensiona Non so se Se ho reso l'idea Quindi Il fatto che non abbiano Preso Piastri Forse loro credono Di avere un'auto performante Non lo so ragazzi Non lascio decidere a voi Detto questo ragazzi Questo era quello che pensavo Sul centro gruppo Del 2021 Che sarà probabilmente Quello del 2022 Ora lo vedremo Se il video ti è piaciuto Dimmi da lasciarmi un piace Da segnare un dislike Commentare se siete d'accordo Se siete d'accordo con me Se non l'è ancora fatto Iscrivete al canale In descrizione Link per la seconda In Instagram DamoneSpar07 Tutto e noi Ci vediamo in un prossimo video Bella ragazzi